Ciao a tutti, io sono Erika e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi io e mio zio continuiamo a lavorare al progetto del posto auto. L'ultima parte della struttura non è mai stata terminata, quindi è necessario procedere con questo lavoro prima di ogni altra cosa. Per creare le parti mancanti del tetto abbiamo tagliato a misura delle travi in acciaio e in ferro che erano rimaste da parte. Dopodiché le abbiamo saldate sul lato e creato la struttura nella parte superiore. Già che c'eravamo ne abbiamo approfittato per aggiungere qualche saldatura dove mancava e rendere la struttura ancora più solida. A parole sembrava facile, ma per realizzare tutto ci abbiamo impiegato tre o quattro pomeriggi di lavoro. Iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.